Se qualcuno ti avesse detto vai a Ponte d'Era, il tuo Pescara vince 5 a 0, segni il gol che sostanzialmente chiude la gara, cosa avresti detto? Ma niente, non ci avrei mai pensato, alla fine ho passato due anni bellissimi qua, ho fatto gol quando eravamo qua contro Ponte d'Era-Pescara, quindi una grandissima emozione dai. Tra l'altro, Massimo da studio ti dovevi far perdonare perché qui qualche anno fa vi segnato contro il Pescara. Sì, esattamente, tutti mi dicevano vediamo se ora ti sai far perdonare, ho cercato di farmi perdonare e penso di averlo fatto. Partita senza storia, partita dove forse solo nei primi 5-10 minuti il Ponte d'Era vi stava dando qualche preoccupazione, poi però il Pescara ha giocato una gran gara di personalità. Alla fine loro ci venivano ad attaccare alti, venivano uomo contro uomo e noi abbiamo dimostrato che abbiamo qualità come si diceva e soprattutto negli spazi aperti perché venendo uomo contro uomo lasciavano tanti spazi dietro e siamo riusciti ad averla meglio. Tra l'altro, Lorenzo, è la seconda vittoria consecutiva ma soprattutto è un Pescara che sta mostrando dei concetti nuovi. Qual è la grande novità secondo te? Cosa è cambiato? No, alla fine secondo me non ci sono grandi novità, il fatto è che dopo un inizio abbiamo avuto tanto entusiasmo, abbiamo avuto un calo però adesso con forse un pizzico di maturità in più stiamo risalendo.